Bene, bentornati in diretta. Come ogni lunedì ospitiamo un sindaco del nostro territorio e questa sera è con noi il primo cittadino di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli. Buonasera sindaco, bentornato. Buonasera, grazie. Ricordiamo i numeri di telefono per intervenire in diretta che li troverete sempre in sovrimpressione. 0721 86 14 33 per parlare direttamente con il sindaco oppure potete inviarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250. Dunque, partiamo dalla pandemia perché in Italia si registra un po' un aumento dei contagi anche tra i vaccinati e si parla di ulteriori restrizioni. Abbiamo sentito poco fa nel telegiornale anche a Pesaro per le iniziative. È obbligatoria la mascherina addirittura anche all'aperto durante il pomeriggio, Green Pass, eccetera. Qual è la situazione nel comune di Vallefoglia e qual è anche il suo pensiero? Innanzitutto buonasera, grazie dell'invito. La situazione è quella di una forte difficoltà perché a fronte di una percentuale altissima di persone che hanno fatto il vaccino ce ne sono altri, ahimè tanti ancora, che il vaccino non l'hanno fatto e che quindi aumentano i contagi. Insomma, ecco, la situazione è sotto controllo, però è chiaro che come fanno a Pesaro, per esempio l'iniziativa che noi faremo il 4 o il 5 di dicembre a Piazza della Repubblica a Montecchio, l'autunno di Vallefoglia, cioè tutte le tipicità locali, il tartufo, il melograno, i funghi e soprattutto l'olio extravergine d'oliva e misureremo la febbre, il Green Pass e tutto quello che significa anche la mascherina all'aperto. Ecco, dobbiamo ritornare alla normalità. Tornare alla normalità vuol dire fare tutti i vaccini perché vuol dire dare la libertà di ritornare è una situazione, diciamo, di normalità nel lavoro, nell'accesso alle attività sportive, alle attività culturali, alle attività sociali e quindi bisogna continuare a stare molto attenti a fare quanto prima il terzo vaccino. Il vaccino è gratis, quelli che non lo fanno devono fare i tamponi a pagamento. Quindi è auspicabile, come ricordava oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che insomma su dieci, nove persone hanno fatto il vaccino. Insomma, quindi in qualche modo è un invito molto, diciamo, cordiale anche a coloro che magari hanno qualche preoccupazione. Anch'io quando ho dovuto fare il vaccino avevo qualche preoccupazione, intendiamoci ognuno di noi. Però bisogna superarla perché significa salvare la vita, quindi ritornare ad una situazione di normalità. Noi abbiamo sollecitato più volte la Regione, il Presidente della Giunta regionale, l'assessore regionale, a fare i vaccini a Vallefoglia, a ripristinare il servizio della Guardia Medica, a potenziare quella Casa della Salute che è a Montecchio di Vallefoglia, ma serve un vaccino di oltre 50.000 abitanti. Ecco, partiamo dal primo. Intanto il punto di vaccinazione. Lei ha ricevuto delle risposte, delle promesse? No, no, tante chiacchiere, però ecco, il punto vaccino era a Pesero, i tamponi sono stati fatti a Montecchio di Vallefoglia, i vaccini, grazie ai pediatri, sono stati fatti nella Casa della Salute di Vallefoglia, sono stati fatti a Gradara, a Pergabice e a Gradara, la parte alta di Tavuglia. È auspicabile che questo modello che ha funzionato benissimo sia rifatto nel migliore dei modi, cioè ai punti di vaccino a Pesero, alla Casa della Salute di Vallefoglia e a Gabice e Gradara, per la parte alta dei territori dei sei comuni dell'Unione, perché è auspicabile che si vada a tappeto a fare i vaccini e quindi a ripristinare la situazione di normalità. Noi eravamo arrivati nella punta massima a 140 contagi, oggi siamo a una quarantina e eravamo arrivati a zero, quindi se si sta attenti, se si mantiene il distanziamento sociale, se non si fanno assembramenti assurdi, senza mascherine, senza igienizzazione delle mani, senza le distanze necessarie, bisogna stare attenti per superare questa fase difficile. Difficile, ahimè oggi sentivo un dato sulla Slovenia, che è abbastanza drammatico, ma basta guardare la Germania, basta guardare altri paesi europei, noi siamo messi un po' meglio, però potremmo essere messi ancora meglio e ritornare proprio ad una situazione di normalità. Rimaniamo sul tema sanitario, lei prima ha detto, ha scritto alla Regione per la Casa della Salute perché è necessario un potenziamento, richieste avanzate più volte. Ma quella, come si vede anche nell'immagine, è una casa bellissima, due milioni di investimenti, è chiaro che lì, per esempio, la medicina, in questo caso l'emergenza Covid, però la medicina per il lavoro, del lavoro, la medicina sportiva, il materno infantile, tutti i servizi che vanno potenziati in quell'area, perché se uno ha bisogno dell'ospedale, va anche uno a Pesero e va nelle strutture ospedaliere, se si fa prevenzione si evitano i ricoveri ospedalieri e quella è nata appunto come una struttura del territorio. Nel territorio sono tante le risorse anche oggi con i fondi del Ministero, con i fondi europei, per potenziare i servizi territoriali, per evitare i ricoveri ospedalieri, perché i ricoveri ospedalieri costano, lo dico anche a coloro che hanno preoccupazioni, che non hanno fatto il vaccino, intanto se sta male si rischia la vita. E poi il ricoveri ospedalieri costa, costa anche a quello che ha fatto il vaccino e che magari per, diciamo, le preoccupazioni, perché molti hanno paura, altri magari perché pensano che la medicina non sia una scienza esatta, la scienza o uno ci crede o non ci crede, perché uno va dal medico di medicina generale, va dallo specialista, perché pensa che posso salvargli la vita in taluni casi, in altri curarlo o curarlo bene, insomma. Ecco, quindi le strutture territoriali vanno potenziate fortemente, perché coinvolgendo i medici di medicina generale, che sono il primo impatto con ognuno di noi e i suoi problemi, perché sono quelli che conoscono meglio, diciamo, le persone nel territorio e poi un rapporto importante con le strutture ospedaliere. Colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i medici che hanno dato una mano a fare i vaccini nella prima fase e la daranno, e li ringraziamo anticipatamente anche in questa fase, diciamo, di richiamo. Poi c'è chi pensa che sia opportuno fare insieme anche al terzo vaccino, anche l'influenzale. Sono molti che, soprattutto le persone... Quelle di una certa età. Sì, di una certa età che fa bene fare anche il vaccino anti-influenzale. Io penso che sia molto più importante l'altro vaccino, insomma, che come sappiamo, come si è visto oramai da tutti i dati, salva la vita. Non sempre, però sì, insomma, abbiamo visto anche altri casi, insomma... Come tutte le cose, diciamo, se noi consideriamo anche tutti quelli che muoiono per altre ragioni, è chiaro che anche quando uno va per strada i morti sulle strade sono tanti, i morti per problemi di cuore sono tantissimi. Però, insomma, si è visto che il vaccino è la soluzione, non ci sono altre strade. Importante per tenere alta l'attenzione, quindi distanziamento, gel, quella è la cosa prioritaria per cercare di evitare questi contagi. E avete ottenuto anche dei finanziamenti importanti per gli impianti di ventilazione meccanica nelle scuole. Sì, abbiamo ottenuto dei finanziamenti importanti nelle scuole della città di Vallefoglia, anche nella scuola media di Pian del Bruscolo, che è insieme, diciamo, fra Vallefoglia e Tavuglia, 100 mila euro, altri 100 mila euro. Poi abbiamo avuto dei finanziamenti, diciamo, dal Ministero degli Interni per quel che riguarda, diciamo, l'illuminazione delle piste ciclopedonali e la risistemazione o la messa in sicurezza. Dovrebbero, se tutto fila liscio, per la fine dell'anno, prima della fine dell'anno, dovremmo avere in funzione anche i collegamenti delle piste ciclopedonali che vanno dal ponte di Sulfoglia, di Pian del Bruscolo, fino alla Morciola. Sono due tratti abbastanza importanti. Il Comune di Tavuglia fa l'altro tratto che va da Padiglione fino a Montecchio, quindi un sistema di piste ciclopedonali per una ventina di chilometri e passa per quelli che vogliono anche andare a lavorare, oltre che a passeggiare, in bicicletta o a piedi possono raggiungere, evitando anche l'inquinamento atmosferico, prendendo la macchina o magari preferendo l'autobus. E pensate anche a un servizio di e-bike sharing, quindi elettriche, bici elettriche? Sì, abbiamo avuto un finanziamento che è in questo Consiglio Comunale che faremo venerdì prossimo, venerdì 26, sempre per, diciamo, la mobilità sostenibile e quindi le aree di sosta per coloro che scelgono la bicicletta, le piazzali, insomma, tutta una serie di elementi importanti per una mobilità non su auto, diciamo così, privilegiando la bicicletta, privilegiando quelli che vanno a camminare a piedi, insomma, oppure, ecco, l'autobus, stiamo ragionando con l'AMI per fare una riorganizzazione del sistema di mobilità, diciamo, nell'insieme del territorio dei sei comuni dell'Unione per, diciamo, incentivare l'uso del mezzo pubblico e ridurre la movimentazione di auto private che producono incidenti, molti dei quali anche mortali, ma soprattutto inquinamento atmosferico. E ritornando un attimo sulle piste ciclabili, ha accennato di questi due interventi importanti, qual è il costo? Il costo è circa 200 mila euro, e i finanziamenti sono finanziati dal Ministero degli Interni, quelli invece del ricambio d'aria nelle scuole sono finanziamenti che vengono dai ministeri, ma che passano attraverso la Regione. Io ho anche colto l'occasione per ringraziare più volte anche la Regione. Io, come si vede, come stile, non polemizzo mai se non sono proprio costretto e ringrazio anche perché in questo momento insomma avere risorse per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini è importante, quindi il bon ton dice anche che se uno ti dà una mano a realizzare un obiettivo, un progetto, bisogna anche ringraziare. È certo. Rimaniamo in strada perché si sono conclusi anche i lavori che riguardano gli asfalti da parte della provincia, sono iniziati quelli invece finanziati dall'amministrazione comunale. Sì, noi diciamo che abbiamo con costanza per circa sette anni messo ogni anno 500-600 mila euro all'anno per mettere in sicurezza la viabilità comunale. Poi abbiamo avuto, e qui ringrazio, sia l'ANAS che ha fatto tutti gli asfalti nuovi dentro il centro abitato di Bottega Morciolla nel tratto che va anche Montalabate-Morciola verso Urbino, sia la provincia che ha asfaltato alcuni tratti importanti nel percorso che va verso Urbino, la strada dei Duchi, e sia nella zona industriale di Talacchio. Quindi diciamo che c'è stata un'attenzione particolare sia dell'ANAS e quindi della programmazione regionale. ho ringraziato l'assessore Baldelli per il tratto che va dal casello dell'autostrada al cimitero degli inglesi canadesi a Montecchio. Veramente si è fermato un po' prima, gli ho detto che bisogna permettere altri 100 mila euro. Visto che c'era. Fino a Osteria Nuova perché era un tratto che era molto ammalorato e oggi se uno fa il casello dell'autostrada andando dalla vecchia strada statale 423 si accorge che invece è come un biliardo. Ha fatto anche la segnaletica e quindi mi pare una buona norma per dare più sicurezza ai cittadini. A proposito di sicurezza, come Unione dei Comuni Pian del Bruscolo avete presentato un progetto che riguarda in realtà telecamere in diversi comuni tra questi appunto Vallefoglia. Sì, abbiamo messo circa oltre 300 mila euro, quasi 400 mila euro, esattamente 370 mila euro da un avanzo d'amministrazione per rifare tutto un check-up al sistema delle telecamere, circa 140-150 telecamere nei comuni di Pesero, di Vallefoglia, di Tavuglia e di Bombaroccio per adeguare alle attuali norme e poi sono, diciamo, attrezzature abbastanza sensibili, bisogna tenerle sempre in funzione perché hanno un ruolo, diciamo, strategico nel senso che quando tu passi vieni controllato, fotografa la targa, si capisce se ha fatto la revisione, insomma ci sono una serie di cose anche dal punto di vista della sicurezza perché quella è un'area ricchissima, si pensi solo che ci sono quasi 50 mila metri di capannoni nuovi oltre che aver recuperato gran parte di quelli che c'erano e che vuol dire molta ricchezza, una ricchezza che è certamente paragonabile a Pesero e Fano, forse anche un po' di più, e che è molto appetibile alla malavita organizzata. Quindi non è un caso che ho fatto tutta una serie di incontri col prefetto, col questore, col comandante provinciale di Carabinieri, la Guardia di Finanza, Polizia di Stato, perché vogliamo tutelare al meglio la sicurezza di quell'area, le attività produttive di quell'area e i cittadini. E le telecamere servono a quello. Il unico gestore che è il comando, diciamo, che è a sede a Pesero e poi ha dei punti importanti di riferimento a Pian del Bruscolo, a Borgo Santa Maria, a Monbaroccio, il comando territoriale di Pesero, diciamo, ha la governance di questo sistema di telecamere ed è collegato con il prefettura e questura, quindi col Ministero degli Interni. E quindi è molto importante per la sicurezza delle imprese, dell'economia e dei cittadini. Ecco, perché appunto c'è questo collegamento con le forze dell'ordine, come diceva prima, non soltanto targhe, ma se succede qualcosa... Diciamo che servono anche per prevenire, prevenire furti, per prevenire infiltrazioni malavitose nell'economia, quindi servono, servono molto, insomma. Ecco. Torniamo un attimino a parlare del maltempo, che tra l'altro ci torneremo con un argomento anche nel telegiornale di domani sera con delle interviste, perché abbiamo notato appunto nella pagina Facebook dell'amministrazione comunale e che avete ringraziato i tanti volontari che si sono adoperati per aiutare i cittadini di Marotta-Mondolfo, ma anche della zona di Fanu Sud per l'alluvione della scorsa settimana. Quindi un plauso, ecco, ai volontari del gruppo comunale. Ma noi abbiamo un bel gruppo di volontariato di protezione civile, poi c'è una struttura che fa capo al Comune, fa capo all'Unione dei Comuni, però direi che per ogni evenienza che capita, almeno nella nostra provincia, ma anche nel resto delle Marche, la Regione è attiva, il volontariato di quelli che ci sono, insomma, con le attrezzature, con delle pompe per recuperare il fango, l'acqua per pulire, insomma, tutte le attrezzature che abbiamo, e io ho fatto un pubblico ringraziamento perché ci sembra giusto che decine e decine di persone che vanno a fare emergenze negli altri territori fuori dal Comune e lo fanno con passione, con spirito di sacrificio, quindi diciamo che è stata un'emergenza importante sull'area di Mondolfo, Marotta e di Fano e quindi speriamo di non aver bisogno perché è chiaro che i pesaresi e i fanesi ci darebbero una mano, come facciamo noi nei loro confronti, insomma. Sicuramente, però ecco, siete stati bravi voi questa volta, però avete un gruppo comunale pronto? È un bel gruppo, devo dire, sono molto attivi, sono capeggiati all'ingegnere, l'ingegnere Alessandrini, ma sono tanti volontari, molti anche giovani e molti anche di esperienza, ma poi è come la politica, uno ce l'ha nella passione, nel sangue oppure no, perché uno che fa volontariato di protezione civile, se non ci crede, insomma, non lo fa. Certo. Con l'aiuto della regia scorriamo un po' di foto, dovremo averne alcune che si riferiscono a delle scuole. Dov'era qua Sindaco? Dunque, quella, se non sbaglio, è la scuola di Via Guidi, mi pare che sia, se non sbaglio, perché gli interventi nelle scuole sono tantissimi che abbiamo fatto. Noi abbiamo puntato tutta la prima legislatura sulle scuole. Quindi una sistemazione, Quella è la scuola di bottega, di Via della Libertà, le scuole sono state tutte rimesse a nuovo, alcune sono proprio nuove, in Via della Libertà. Quella è una scuola nuova, per esempio, è la scuola Federico da Montefeltro, che è a fianco a dove facciamo il comune nuovo, costruito in legno, in un record dei record di 72 giorni da subissati. Le scuole sono state rese tutte antisismiche, tutte antincendio, e abbiamo speso milioni di euro. Però era stata la prima cosa, perché l'investimento era sulle famiglie, sui bambini, sul futuro, sulle nuove generazioni. Quindi abbiamo fatto sei aule in più alla scuola in Via Guidi, a Montecchio, abbiamo rimesso a nuovo la scuola materna a fianco alla chiesa di Montecchio, la scuola, quella Federico da Montefeltro. Abbiamo fatto una palestra nuova a bottega, dove si è vista prima quella scuola bellissima, che è un'opera d'arte, progettata oramai 30-40 anni fa dall'Interstudio. e diciamo che lì c'è, ci sono sei aule nuove per la scuola materna, una palestra nuova in legno per un milione di euro, insomma, ecco, veramente sono tante le cose, quelli che vengono da altre regioni d'Italia, da altre regioni d'Europa e del mondo, trovano tutti i servizi immaginabili possibili. Poi la nostra è una città molto accogliente, inclusiva, è una città multiraziale, multiculturale e tutto sommato c'è una governance abbastanza, c'è molta vivacità, ma i giovani sono dappertutto molto vivaci, non è più come una volta, insomma, anche nelle città di Peso, di Fano, le grandi città, le grandi megalopoli, insomma, da noi ancora si regge, ma bisogna stare molto attenti, insomma, non è un caso che proprio domattina apriremo un convegno sull'inclusione sociale, sulla solidarietà, sulla interreligiosità, l'interculturale e diciamo, abbiamo decine, decine di ragazzi, forse un centinaio, forse di più, di ragazzi che sono nati da noi e che però non sono italiani, che vengono da altri paesi europei, vengono dal Marocco, vengono dall'ex Jugoslavia, vengono dall'Albania, vengono da altri territori e diciamo, c'è una grande movimentazione perché tutti quelli che vengono pensano che trovano lavoro, non è un caso che abbiamo in corso, quasi oramai in ultimazione, 50 milioni di investimenti in un centro di coesione sociale a Vallefoglia, a fianco al Comune di Montalabate, a tiro di schioppa del Comune di Montalabate e diciamo, tutti questi cappanoni di cui dicevo prima, per 500-600 posti di lavoro nuovi e quindi c'è una movimentazione di persone che non trovano lavoro, ritornano via e di altri che vengono perché pensano di trovare lavoro. In più c'è tutti questi servizi dal nido di Pian del Bruscolo dove uno se ha la fortuna di lavorare marito e moglie può tenere il bambino dalle 7 del mattino fino alle 7 da sera 120 posti ci sono poi lì c'è una scuola media di circa 600 ragazzi la piscina prevediamo il consolidamento della struttura e il raddoppio della piscina quindi c'è tutta una situazione molto in movimento devo dire a Vallefoglia in tutta quella parte dell'Unione che è l'altra pacca dell'Unione perché l'Unione dei Comuni ha 150.000 abitanti la prima delle Marche 96.000 stanno a peso gli altri stanno a Gabicci, Gradara Tavuglia Vallefoglia tutta quell'area che come riassumo sempre ha nella piazza centrale di Montecchio in piazza della Repubblica circa 50.000 persone che risiedono poi che vengono ai centri commerciali a fare la spesa e vengono a lavorare le aziende più importanti hanno migliaia di persone che vengono a lavorare dalla provincia di Rimini ahimè con i contagi e loro stampeggio di noi quindi dobbiamo stare attenti a non aumentare i contagi dalla provincia di Ancona e quindi diciamo che c'è una forte solidarietà una bella diciamo quantità di persone che trovano lavoro a questo proposito abbiamo sollecitato e devo dire che ringrazierò i prossimi giorni lo faccio stasera come anticipo l'assessore regionale Agusti per aver diciamo accolto la nostra idea di unione dei comuni non solo di potenziamento quello se ne occupa Salta Martina e speriamo che se ne occupi l'assessore Agusti per cui che riguarda il centro per le impieghe di peso ma in particolar modo il punto di formazione lavoro di Morciola che è il luogo dove la gente va a cercare il lavoro e le imprese che offrono lavoro quindi ci sono dei laboratori per la formazione professionale e come si vede se uno forma quelli che servono alle imprese cioè i valegnami i meccanici quelli appena finito il corso trovano lavoro se nessuno li forma gli operai general generici non li prendono più le imprese quindi rischiamo sono figure anche ricercate il giorno di oggi certo rischiamo di aumentare i disoccupati piuttosto che avere la piena occupazione che è l'obiettivo che la città di Vallefoglia ha e che tempi si potrebbero avere per questo punto ma i tempi sono abbastanza brevi penso insomma perché devono ristrutturare un po' il punto in formazione del lavoro irrobustire un po' le presenze delle persone utilizzare bene i cinque laboratori per la formazione professionale e soprattutto mettere dei fondi che la regione ha per diciamo i corsi di formazione ci sono milioni e milioni di euro per formare le persone e collocarle nel mercato del lavoro perché le imprese cercano gli operai cercano i lavoratori ma vogliono le persone diciamo formate non le persone anche i giovani che escono dalla scuola che non sanno fare perché lo studio è un conto la teoria e la pratica è un altro conto quindi bisogna insegnarli come si diceva una volta il mestiere Sindaco ci dobbiamo fermare per qualche istante pubblicità e poi torneremo a parlare dell'auditorium insomma abbiamo anche tante foto da fare vedere a lei anche se le conosce benissimo e i nostri telespettatori tra poco bene siamo ancora in diretta con il Sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli allora Sindaco cominciamo con due foto perché si punta anche all'efficientamento energetico Sì i progetti sono tantissimi noi abbiamo con Consip rifatto tutta l'illuminazione nuova tutte le lampade a led nei parchi ma a lungo la viabilità e la città continueremo andremo a gara credo a breve per i prossimi 7-8 anni quindi diciamo che il risparmio energetico è importante la città abbiamo investito molto nell'illuminazione poi adesso diciamo vedere di non esagerare perché poi la gestione costa se metti 100 pali di illuminazione in più aumenta il costo della gestione però ecco mi pare una bella operazione e poi insomma il risparmio energetico la città più illuminata soprattutto le piazze i parchi i giardini insomma credo che sia una bella operazione quando completeremo entro l'anno anche quei 2-3 km mi pare che siano di piste ciclopedonali dal ponte in legno sul piume Foglia fino a Morciola sarà un'altra bella operazione insomma ecco mi dicono che abbiamo anche la foto del nuovo pulmino giusto regia eccolo qua abbiamo diciamo investito anche molto sulle persone anziane abbiamo acquistato un mezzo direttamente grazie alla banca la banca di Pesero e abbiamo diciamo messo a disposizione le persone più anziane all'associazione Nonomino quello è un altro pulmino che è stato finanziato direttamente dalla comunità dalle persone dai territori e quindi fanno un bel servizio e abbiamo diciamo anche un altro mezzo che ci consente anche di fare spostamenti per l'attività del gruppo musicale la banda musicale che è una storia di oltre 150 anni e la banda musicale Giovanni Santi quando avrà modo di suonare nel nuovo teatro Giovanni Santi e poi ne parleremo e quindi sarà interessante insomma e poi stiamo facendo una pubblicazione sulle radici storiche della città di Vallefoglia che presenteremo probabilmente entro la fine dell'anno e cioè i personaggi tutti di caratura nazionale che Vallefoglia ha le radici la storia e la prospettiva futura di una città che è la terza città della provincia di Piesa Urbino ma che è epicentro di un territorio che ha oltre 50.000 abitanti quindi diciamo parafrasando per le città sicure con il Conte Pacciotti di Montefabri a Giovanni Santi a Gerola Mogenga a Terenzo Mamiani a Costanza Monti a Giulio Perticari e Giovanni Branca tutti i personaggi che sono vissuti in quel territorio e che hanno comunque una proiezione nazionale alcune anche internazionale e poi diciamo a ore oramai direi dovrebbe iniziare il nuovo teatro che è stato aggiudicato perché gli altri avevano rinunciato alla ditta Murazzani Giuseppe Girolamo e Associati che è una società temporale di imprese che è di bottega al teatro di 330 posti cinema teatro auditorium per la musica e ce l'abbiamo la foto di questo auditorium e poi il comune che sorge che dovrà essere finito circa in 5-6 mesi insomma prima del prossimo estate dovremmo avere il comune nuovo un comune in legno quindi la struttura anche con un forte risparmio energetico sia il teatro che il comune contenimento della spesa e qualità per la vita dei nostri cittadini anche l'auditorium entro il prossimo anno l'auditorium ma hanno un anno quindi presumiamo che fine 2022 primavera 2023 dovremmo avere pronto il teatro Giovanni Santi che è il teatro di tutta la vallata perché per andare a teatro uno va a Peso a Fano a Urbino o va in Emilia Romagna a Montegredolfo no a Montegredolfo a Sallodeccio oppure non c'è un teatro in tutta quell'area quindi sarà utilizzato da tutti i comuni confinanti anche perché è una struttura che è al servizio di quella comunità che eleva anche la qualità della vita perché noi abbiamo ristrutturato il teatro Branca Sant'Angelo in Lissola quindi passiamo da zero a due teatri in un'area che non c'era un teatro esatto anche qui dovremmo avere la foto del cinema Branca che è stato inaugurato prima parlava di personaggi storici di Vallefoglia e di questo libro però ci sono anche dei luoghi storici perché è stato ritrovato un bunker eccolo abbiamo qua la fotografia questa immagine della seconda guerra mondiale e è già stato esplorato anche dagli speleologi dagli archeologi di Urbino che cosa ne farete ma dunque cosa faremo intanto ringraziamo anche coloro che con passione si sono andati da fare per scoprire tutto quello che c'era da evidenziare era già previsto nel piano regolatore della città di Vallefoglia diciamo tutti questi punti importanti che sono legati anche ahimè al dramma dello scoppio di Montecchio durante la seconda guerra mondiale dove morirono più di 30 persone e il cimitero degli inglesi e dei canadesi a Montecchio e quello di Gradar sono emblematici dei ricordi drammatici della guerra tant'è che noi abbiamo fatto una pubblicazione mai più guerre quindi faremo un progetto europeo sui fondi europei insieme agli altri comuni per fare una ripercorre la storia delle vicende della guerra per spiegare ai bambini noi presenteremo a giorni una pubblicazione sull'educazione civica nelle scuole fondamentale i prossimi giorni e quindi ricordare cosa sono state la prima e la seconda guerra mondiale e quindi la necessità di avere un'Europa di pace un'Europa che garantisce la tranquillità dei popoli europei e diciamo un escorso storico culturale ma perché no anche turistico perché sono dei pullman che vengono a quota di 104 a Tavuglia a vedere diciamo dalla Germania dall'Inghilterra da altri paesi dove hanno combattuto i loro i loro nonni i loro antenati diciamo la storia che viene raccontata anche tramite questi luoghi sì attraverso la visita di questi luoghi ed è un percorso diciamo di carattere nazionale la linea gotica e anche di carattere europeo lì in quei cimiteri ci sono africani russi indiani inglesi americani tedeschi quindi c'è anche una dimensione la linea gotica di carattere internazionale anche dal punto di vista non solo storico-culturale ma anche turistico perché è chiaro che tutti quelli che vengono a visitare il percorso e poi vanno negli alberghi vanno nei ristoranti e producono anche ricchezza per il territorio dunque abbiamo anche una foto relativa alla metanizzazione ci sono stati ecco qua metanizzazione depurazione quella è un'operazione grazie all'allora presidente taglioline l'amministratore delegato Tiviroli ma soprattutto l'atto per la programmazione di un investimento di quasi 2 milioni di euro che per la prima volta nella storia porta diciamo il metano e la depurazione nelle due borgate importanti uno dei centri storici più belli d'Italia che è Montefabbri e il monte di Colbordolo in più c'è un'operazione di diciamo risanamento ambientale con tre depuratori lungo l'asta pluviale del Foglia che nella storia di questo fiume non sono mai stati investimenti così importanti il depuratore di Borgeria su Pesero il depuratore di Montecchio per tutta quell'area di 50 mila abitanti il depuratore che sarà finanziato dal contratto di fiume molto probabilmente dal ministero dai fondi del Piano Nazionale di Resilienza che sarà un altro investimento di decine di milioni di euro tre depuratori per tutta l'asta pluviale che va dal confine con la Toscana da Belfort all'Isauro fino a Pesero per quasi 200 mila abitanti tre depuratori che depurano tutta l'asta pluviale che va a finire a Soria nel mare quindi grande operazione ecologica ambientale e com'è un'operazione ambientale ed ecologica quella di questi due milioni di investimenti su Montefarvio e Montelico il Bordolo che se non era dentro la programmazione del lato probabilmente non sarebbe mai realizzata infatti sono passati tanti anni e nessuno aveva mai fatto la metanizzazione o la depurazione ma le foglie però punta anche al recupero delle case rurali questa è una notizia di questi ultimi giorni quest'ultima settimana e anche qui si parla addirittura di ben 145 fabbricati abbiamo avuto i complimenti dagli uffici della regione Marche perché siamo uno dei pochi comuni che ha fatto un'operazione di recupero di 150 circa 150 case rurali con un provvedimento di verifica ad hoc casa per casa con un incarico professionale e una quarantina quelle di maggior pregio sono recupero conservativo totale le altre si possono fare delle migliorie e comunque ci sono già delle richieste di recupero perché come si sa ci sono anche dei soldi per diciamo renderle da parte dello Stato per diciamo risparmio energetico e per la sismica quindi renderle antisismiche piuttosto che aspettare che andavano tutta la malora quindi è un provvedimento molto importante che finalmente consentirà di recuperare decine di case rurali che andavano tutta la malora un'opportunità anche da cogliere al volo e poi mi dicono che siete intervenuti anche sui parchi i parchi giochi anche in questo caso abbiamo delle fotografie soprattutto sempre con l'occhio attento alle scuole ai bambini basta vedere ecco quella è proprio nel centro di Montecchio una scuola dell'infanzia dove l'abbiamo ristrutturata tutta rimessa a nuovo e poi abbiamo guardato anche un po' alle piccole cose che per le scuole però sono molto importanti che sono i giochi che sono pavimentazioni che diciamo non creano problemi ai bambini che giocano in sicurezza sono tutta una serie di attenzioni per le scuole che danno un segno di una civiltà diversa da quella che era al passato insomma se ricordiamo le vecchie scuole le vecchie pluriclassi tutte quelle cose che insomma oramai sono ricordi antichi nella città di Vallefoglia perché un buon 70% degli investimenti di questi sette anni sono andati nelle scuole bene così e poi è stato celebrato l'albero questa festa dell'albero nei giorni scorsi la festa nazionale sabato 20 novembre noi cercheremo al di là delle feste dei momenti importanti adesso avremo la prossima settimana diciamo un evento internazionale diciamo di sensibilizzazione di noi uomini verso la violenza contro le donne che è una cosa assurda e intollerabile e la piantumazione oltre 20 piante importanti nel parco Nildeiotti è però un segnale di attenzione perché ogni bambino che nasce noi vorremmo piantare almeno una pianta per ogni bambino poi come si è visto anche a livello europeo e internazionale l'Italia è in controtendenza dove c'è il disboscamento la piantumazione che va alla malora l'Italia aumenta i boschi e quindi questo è molto importante per il futuro del pianeta ma soprattutto per diciamo respirare aria buona perché come si sa le piante fanno bene alla salute eh sì e prima di proseguire con gli eventi dicevamo prima di una fotografia sul cinema branca poi eravamo passati ai segreti del bunker ritrovato però ecco siamo contenti di mostrarle ai telespettatori non solo di Valefoglia ma anche da tutti quelli che ci guardano nella provincia di Pesero Urbino e non solo anche questa è una tappa importante un taglio del nastro quello è il teatro branca Sant'Agnonelizia che è stato rimesso a nuovo viene gestito dalla Proloco in sintonia con la programmazione comunale e quindi copre anche due frazioni del Comune di Peso Ginestretto e Monticicardo perché sono lì che gravitano su Sant'Agnonelizio sono circa 3-4 mila abitanti che hanno un servizio importante bene dicevamo degli eventi abbiamo iniziato ricordando l'iniziativa che si terrà ai primi di dicembre ricordiamo anche tramite un cartello eccolo qua in Valefoglia d'autunno quindi il 4 e il 5 sindaco giusto? sì 4-5 dicembre naturalmente misureremo la febbre il grand pass tutto quello che serve perché prima di tutto e diceva anche da voi mascherine all'aperto però in caso di assembramenti penso proprio di sì in caso di assembramenti ovviamente però bisogna stare molto attenti perché noi come in tanti altri luoghi abbiamo avuto molti defunti abbiamo avuto contagi importanti quindi bisogna riprendere la vita normale perché insisto a dire che bisogna fare i vaccini poi ognuno ha la sua idea se uno non la vuole fare però è importante che stai attento e quindi valorizzare le tipicità di un territorio che era un territorio tutto agricolo in passato oggi è una città industriale tra le più importanti però mantiene una caratteristica anche la storia la cultura l'ambiente il paesaggio e come si vede lì il tartufo bianco e anche il tartufo nero ce n'è come in tutti gli altri luoghi uno mi diceva l'altro ieri che ha trovato un tartufo di quasi tre etti che sono quasi mille e cinque insomma è come uno stipendio di un operaio e poi l'olio extravergine d'oliva perché lì ci sono tanti oliviti abbiamo due mulini e poi il melograno sono quasi oramai una quarantina di aziende e sapete quanto fa bene il melograno e poi i funghi tradizionali che ci sono nei nostri territori uno va nella zona di Coldel c'è il monte di Coldbord in tutte quelle zone dove si possono trovare questi prodotti tipici locali quest'anno sarà la location nella piazza della Repubblica di Montecchio non più in via Piola Torre per lì c'è un rifacimento di tutte le facciate e quindi era un po' diciamo una non era l'ambiente adatto sì non era proprio l'ambiente adatto per quest'anno e quindi però ecco pensiamo che sia se si sta attenti una opportunità di degustazione io ho degli amici che sono 3-4 mesi che sono a raccogliere le olive insomma un olio un olio profumato un tartufo straordinario e le aziende sono tantissime le aziende che sono cresciute in questi anni sul melograno quindi direi che sono due giornate importanti poi avremo altri eventi però sempre con l'occhio attento fino all'ossessione alla salute delle persone quindi a invitare a fare i vaccini al distanziamento sociale all'igienizzazione delle mani e alla mascherina la mascherina anche all'aperto dove non c'è il distanziamento bisogna tenerla e dove c'è distanziamento se le persone stanno lontane si può anche togliere però ecco superiamo la svelta ritorniamo alla normalità diamo tutti una mano a lasciare alle nostre spalle il covid e diciamo questa drammatica vicenda della pandemia che ha tolto ogni ogni ben di dio perché quando le persone non possono spostarsi naturalmente non possono andare a lavorare nella normalità non possono fare tutto quello che erano abituati a fare insomma hanno diciamo avuto dei problemi prima con il lavoro poi col covid quindi riprendere la fiducia e la speranza nel futuro parliamo anzi chiudiamo con il Natale visto che si guarda anche di speranza di solito è un periodo adatto anche per ritrovarsi con le famiglie dopo questi due anni difficili avete organizzato già qualcosa avete annunciato noi stiamo pensando con le scuole però come dicevo l'occhio è attento alle persone prima di tutto certo abbiamo avuto dei momenti anche insieme alla Proloco di feste nel periodo natalizio avremo un concerto della banda musicale nostra però ecco bisogna stare attenti perché se noi di solito l'abbiamo fatta sempre nell'impianto sportivo dove giocano le bocce dove ci stanno centinaia di persone però è al chiuso stiamo valutando se fare una cosa all'aperto nella piazza insomma faremo l'accensione delle luci con due bande domenica pomeriggio alle 17 nella piazza della Repubblica di Montecchio e cerchiamo di concludere l'anno con sobrietà e con attenzione prima di tutto a tutelare la salute delle persone Sindaco grazie per essere stato con noi grazie a voi un ringraziamento anche a Regia Riccardo Sora e Cristiana Guerra grazie a tutti voi per averci seguito buona serata e un saluto ancora a Sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli arrivederci grazie a tutti